buongiorno oggi è 31 luglio un sabato di luglio l'ultimo di questa piccola serie di sabati e di giornate al mare con gli amici tante cazzate come al solito oggi si va a roseto valfortore valfortore sotto indicazione del signor mario che ci ha fatto conoscere un posto con le piscine sarà una giornata indimenticabile come sempre a dopo dimenticavo ovviamente siamo in ritardo io devo andare a comprare le cose da mangiare perché non mangio panini del giorno prima quindi solo focacce panzerotti e pizze missione compiuta abbiamo preso il cibo per il pranzo adesso si scorre perché mario già sta via lucida non so quanto cazzo si è alzato si è alzato alle 5 così pazzo buongiorno oggi recuperiamo salve stavo facendo la fila per la registrazione tra poco questa è in piscina ragazzi un riscaldamento globale ho dei long sotto il sole e finché non piove ballerò in un cover e mi sto immaginando io e te a panarea ma se cambia il tempo cambio idea tengo un altro drink e sto in appena questo mare non per il bar guarda il cielo che colore il pianeta terra esplode se una stella cade esprimi un desiderio senza spoiler e sei voti imbarazzanti di stanotte resteranno delle prove perché se domani piove all day long sotto il sole e finché non piove ballerò in un cover e mi sto immaginando io e te a panarea ma se cambia il tempo cambio idea tengo un altro drink e sto in appena questo mare non per il bar all day long sotto il sole e finché non piove ballerò in un cover e mi sto immaginando io e te a panarea ma se cambia il tempo cambio idea tengo un altro drink e sto in appena questo mare non per il bar è finita questa giovedì andata ritmo di qualcosa che canta è piatto siamo molto felici buona giornata ben serata salutiamo tutti ciao 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 ciao